Si chiama Darian Depresa, una giovane donna, madre di famiglia, che stava giocando con l'amata figlia quando ha notato un grosso segno di colore marrone scuro sul palato della figlioletta. Ha cercato in tutti i modi di toglierlo dalla bocca, dal palato, ma grazie a quella paura forte non c'è riuscita, ha chiamato quindi un appuntamento con il dottore, il medico di famiglia è arrivato, anche l'infermiera, niente da fare, non andava effettivamente a parlare. Due medici l'hanno visitata, la bambina, e anche una terza, e hanno fatto una scoperta incredibile. Infatti la macchia di colore scuro, quindi nero, o meglio marrone scuro, era un pezzo di cartone che la piccola aveva strappato e incollato al palato, forse per un mero gioco con la lingua che la bambina aveva fatto, compiuto. La domanda è rimasta ovviamente colpita, e non poco, anche perché sembra proprio che quel pezzo di cartone scuro, marrone, non andava via, non va via. Per fortuna non è soffocata, ma ci potevano essere delle buone probabilità che la bambina andasse a soffocare. Dalla le hanno un narratore italiano e tutto, per fortuna è andata bene, nel senso che vive e vegeta, ma deve convivere con questo pezzo di cartone, al più dovrà essere segato, ma è italiano. Iscrivetevi, commentate, ciao dalle hanno un narratore italiano. Iscrivetevi, commentate, ciao.